giallo sulla morte del magistrato francesco ercolini indagati marito e figlio capitale della cultura arriva il mezzo milione promesso dalla regione concorso infermieri si presentano in 4000 per 47 posti natale di generosità ipermercato offre il pranzo ai poveri di pesaro non solo utopia ora gulliver forma anche nuove guide turistiche una buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro telegiornale rossini news notiziario di martedì 19 di dicembre che apriamo con la cronaca e con un caso che sta assumendo risvolti inattesi quello della morte della giudice francesca ercolini deceduta per suicidio nella sua casa di pesaro il 26 dicembre 2022 ebbene un anno dopo vengono indagati il marito e il figlio minore per maltrattamenti correva la mattina di santo stefano dello scorso anno quando francesca ercolini magistrato e presidente della sezione civile del tribunale di ancona veniva trovata senza vita nella sua casa pesarese di viale zara dopo un caso di suicidio comprovato anche dopo che l'autopsia escluse qualunque scenario di violenza da parte di terzi a trovare il corpo senza vita della 51enne impiccatasi con un fular fu il marito lorenzo ruggeri noto avvocato civilista di 56 anni assieme al figlio oggi 15enne coniuge e minore che un anno dopo risultano indagati in seguito al fascicolo aperto dalla procura dell'aquila competente per i casi relativi ai magistrati marchigiani un'indagine per sospetti maltrattamenti in famiglia avviata dalle denunce sporte dai familiari della donna da campo basso città d'origine della ercolini procura che non ha ritenuto valida l'ipotesi di istigazione al suicidio ma evidenziato sulla base di chat e video forniti dalla madre della ercolini uno scenario di complessa situazione familiare di depressione sospetti abusi umiliazioni e violenze domestiche documentate attraverso immagini di lividi ed escoriazioni ora si procederà con l'indagine per maltrattamenti dopo che un primo pm chiese la custodia cautelare in carcere per ruggeri in seguito a presunti tentativi di inquinamento delle prove una richiesta che fu respinta col fascicolo riassegnato ad altro pm ruggeri dovrà difendersi dalle accuse così come il figlio sul quale pende un procedimento separato dal tribunale dei minori per concorso nel reato si conclude la telenovela dei fondi regionali destinati a finanziare pesero capitale della cultura 2024 le consigliere biancani annuncia infatti l'arrivo del mezzo milione di euro promesso dalle istituzioni regionali dopo ripetute sollecitazioni finalmente dopo l'ennesima sollecitazione che ho fatto in questo ultimo anno e mezzo rispetto a pesero capitale della cultura ieri in commissione bilancio è stata messa la toppa cioè finalmente sono stati stanziati i 500 mila euro che mancavano per raggiungere il milione di euro che il presidente acquaroli e la giunta regionale avevano promesso per pesero capitale della cultura la riprova è che ieri in commissione appunto è stato approvato un emendamento in maniera unanime quindi la commissione ha inserito i 500 mila euro entro il 2023 a favore del comune di pesero e questo testimonia il fatto che la maggioranza del governo regionale non l'aveva previsto io ritengo che l'atteggiamento che ha avuto la regione marche in questi questo anno e mezzo si è stato un atteggiamento molto grave e negativo si è completamente disinteressata rispetto a pesero a questo riconoscimento che pesero la seconda città delle marche ricevuto a livello nazionale non ha partecipato né alla programmazione quindi è stata con nonostante di milioni di euro assegnato è stato assente completamente è stata assente alla nella programmazione non ha praticamente fatto nulla per la promozione delle principali fiere a livello nazionale ma anche internazionale pesero capitale della cultura 2000 e 24 non ha avuto un'adeguata visibilità sarebbe stata comunque una finestra prestigiosa a livello internazionale per valorizzare il patrimonio artistico naturalistico di tutto il territorio regionale della costa dentro terra così non è stato e quindi nel mio punto di vista la regione con la sua il suo governo regionale hanno perso sicuramente un'occasione importante Folla di giovani questa mattina nella zona torraccia di pesero dove 4 mila persone si sono presentate alla vitre frigo arena per il concorso per infermieri che mette a disposizione 47 posti di impiego a tempo indeterminato nel servizio sanitario regionale si sono presentati in 4 mila questa mattina alla vitre frigo arena di pesero per il concorso con esame scritto e pratico indetto dalla regione marche per assegnare 47 posti da infermiera a tempo indeterminato nei quadri del servizio sanitario territoriale una folla di giovani tanti marchigiani molti anche da fuori regione e tanti che individuano nelle marche la destinazione più indicata alle loro aspirazioni professionali dei 47 posti la maggior parte sono richiesti dall'azienda sanitaria di macerata che attende 18 nuovi infermieri 12 invece gli infermieri richiesti in questo concorso dall'azienda territoriale sanitaria pesarese io sono abruzzese momentaneamente lavoro in veneto e spero di riavvicinarmi quindi ci proviamo speriamo bene c'è tutta fortuna in base alle domande perché si può essere preparato quanto vuoi però ecco speriamo bene l'obiettivo è vincere entrare all'ospedale per un futuro un'ambizione che ho sempre avuto e ora speriamo di riuscire nell'obiettivo ma come sempre ci proviamo al massimo tanto alla fine gli infermieri servono e noi tutti lavoriamo ci proviamo ovviamente le marche è il sogno di tutti da marchigiani questo è quello che ogni marchigiano ambisce lavorare nel proprio ospedale dagli infermieri ai medici proprio oggi l'azienda sanitaria territoriale di pesaro urbino ha annunciato il rafforzamento d'organico di sei nuovi medici di medicina d'urgenza dal primo gennaio saranno operativi i primi quattro nei pronto soccorso di pesaro e di fano e dentro febbraio saranno in servizio anche altri due nuovi assunti ed ora passiamo alla politica mentre a pesaro le candidature a sindaco per il 2024 si stanno giocando sul tavolo di silenti strategie d'attesa in vista delle elezioni di giugno a fano invece continuano a fioccare candidati sindaco ben quattro nell'area di centro sinistra con l'assessora alla cultura cora fattori che ha annunciato la sua intenzione di candidarsi al pari di quella già manifestata da altri tre assessori della giunta seri l'attuale vice sindaco fanesi e prima ancora etienne lucarelli e samuele mascarin una situazione che potrebbe lasciare presagire la possibilità delle primarie nel centro sinistra ed ora ci occupiamo di iniziative che rispondono appieno allo spirito natalizio come quella dello spazio conad di pesaro che oggi ha offerto un pranzo di natale agli ospiti assistiti dalla mensa caritas natale significa soprattutto generosità e tendere una mano d'aiuto al prossimo lo sanno bene qui a spazio conad dove ci troviamo oggi al rossini center dove dal punto di ristorazione con sapore conad oggi sono stati offerti 60 pasti a persone in stato di povertà persone senza fissa dimora quelle assistite giornalmente dalla mensa caritas diocesana e che vengono accudite anche nel punto d'ospitalità di casa tabanelli 60 pasti tra lasagne e pollo patate e bevande che rispondono appieno allo spirito natalizio abbiamo pensato di organizzare questa giornata proprio per fare un gesto concreto nei confronti delle persone che oggettivamente in questo momento hanno più bisogno sono più difficoltà fa parte del nostro modo di fare imprese un legame verso il territorio un legame verso la comunità e devo dire che il regalo non lo stiamo facendo noi a loro ma lo stanno facendo loro a noi perché da questa esperienza molti dei nostri dipendenti hanno chiesto a titolo completamente gratuito di poter collaborare di poter dare una mano e questo ci riempie di soddisfazione di orgoglio proprio perché in un'occasione come questa riusciamo a essere vicini a proprio a coloro che in questo momento ce lo chiedono l'aiuto dello spazio conad è un aiuto importante per oggi perché ci regala un momento veramente di accoglienza e di comunità ma è un momento importante ed è un regalo importante per la città perché promuove uno stile che è lo stile di condividere le fragilità delle persone che magari in questo momento sono in difficoltà per cui la loro iniziativa la loro voglia di invitarci a vivere un momento gioioso insieme speriamo sia di buon auspicio anche per tante altre iniziative che si possano diffondere nel nostro territorio dopo il successo all'alberghiero santa marta di quest'estate dall'8 gennaio il progetto utopia della onlus gulliver sbarcherà ufficialmente al parco miralfiore in versione invernale una gulliver che oggi però ha presentato anche un'altra novità quella di un nuovo progetto di inclusione il 2024 della onlus gulliver si arricchisce di nuove sfide dopo il successo di utopia che dall'alberghiero santa marta è pronto ad allargarsi in versione invernale al parco miralfiore arriva pure animo tour un patto fra la onlus gulliver e musei civici capace di formare anche ragazzi con disabilità nel diventare guide turistiche e museali nello spirito inclusivo di pesaro 2024 dopo la bellissima esperienza estiva del festival utopia apriamo altre esperienze per i nostri ragazzi questo progetto innovativo per tutta italia dove dei ragazzi con disabilità e parliamo di autismo ragazzi con simone di down e dei ragazzi non vedenti saranno formati nell'essere ciceroni mini guide turistiche nella nostra pesaro pensiamo che non esista ad oggi un servizio istituzionale di mini tour o guide turistiche cittadine noi andremo a formare questi ragazzi che saranno i ciceroni di turisti o anche di abitanti della provincia che vengono a pesaro in turismo a visitare la nostra città siamo felici di fare queste guide turistiche nel museo civici che sono molto importanti nel nostro paese e anche accompagnati da ragazzi che parlano perché parlano in inglese che traducono quello che diciamo noi in italiano oppure possono essere anche spagnoli in tutte le lingue per aiutare i turisti a capire la storia del nostro paese vogliamo aiutare anche gente che c'è ad esempio famiglie con disabilità che non hanno futuro di guardare la presenza della città vermo delle mobilità e noi la mostriamo gli diamo una mano io sono qui anche per dare una mano alla gente che non ha possibilità c'è tanto da scoprire anche anche da riscoprire sul nostra capitale della cultura all'interno dei nostri 44 progetti della capitale della cultura l'inclusività è la chiave per leggere la cultura pesarese in particolare i progetti dedicati alle scuole e ancor più all'interno di botanica partecipata che è un grande progetto le cui linee guide si fondano proprio su quello che è la sensibilità al sistema ecologico in tutti i sensi quindi partendo da un concetto di biodiversità siamo riusciti ad estendere in maniera immaginifica questo concetto a tutti gli ambiti quindi a partire dalla natura delle nostre territori anche attraversando appunto la natura umana si riuscirà ad andare a colpire quelle che sono le i nostri plus della cultura in particolare i musei non solo animo tour da gennaio ci sarà pure utopia in versione invernale al parco miralfiore sì questa è una novità di quest'oggi abbiamo avuto l'ufficialità dell'assegnazione del bar risoro al parco miralfiore al gruppo di utopia quindi dall'otto dall'otto gennaio il bar risoro sarà aperto e faremo anche una piccola puntata prima il 31 dicembre con un'apertura speciale siamo contenti ringraziamo il ministro comunale per il sostegno e per la fiducia che dà tutto quanto il gruppo di utopia utopia che è diventata anche un vino montepulciano rosso o verdicchio bianco in vendita in piazza redi a pesaro nella bottega del riuso sarà in vendita poi nel ristorante al parco miralfiore per sostenere il progetto i vari progetti di utopia nostro consiglio venite a trovare prendete una bottiglia per regalo per natale perché è un buonissimo vino svolta per il nolfi di fano questa mattina la provincia ha consegnato il cantiere per l'avvio dei lavori che porteranno alla nuova scuola verranno uniti due blocchi attualmente divisi che saranno così interconnessi nella futura costruzione si tratta di un'operazione da quasi 20 milioni di euro 15 da fondi pnr più 4 milioni e 7 a carico della provincia che poi recupererà un milione e 7 euro dal gse non mancheranno spazi verdi auditorio un campo sportivo e ambienti per il ricreativo in una scuola antisismica classificazione nzeb con fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili Sauro Rossi segretario generale della CISL Marche 59enne di Urbagna è stato eletto oggi a Roma nella segreteria nazionale della CISL al fianco del segretario nazionale Luigi Sbarra si tratta del primo rappresentante della CISL Marche a ricoprire la carica di segretario nazionale CISL da oggi 11 rotatore di Pesaro si arricchiscono di 100 nuovi alberi piantumati dagli operatori della cooperativa sociale Nuovi Orizzonti le aree interessate dall'intervento sono quelle delle rotatore San Decenzio, dell'Egenica, di via Bonini, di via della Liberazione, via Canale, via delle Nazioni e lungo lo spartitraffico di via Solferino pronti anche 20 alberi con foliage autunnale in via Gagarin e 30 alberi da frutto nelle due rotatorie di via Pertini ci avviciniamo a Pesaro Capitale della Cultura 2024 e si muove anche il mondo del volontariato con il progetto Visibilia che vi mostreremo in uno speciale dedicato che sarà trasmesso domani alle 20 ed il quale vi forniamo alcune anticipazioni in questo servizio continua il countdown a Pesaro Capitale della Cultura e anche il volontariato scalda i motori verso il 2024 lo fa con il progetto Visibilia delle CSV Marche che avanza costruendo tavoli di lavoro e immergendosi nella cultura pesarese in un percorso emozionale quello che venerdì si è diramato dai musei civici al Museo Nazionale Rossini fino all'auditorium della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per presentare i progetti di volontariato allestiti abbiamo concluso un'importante collaborazione con la Fondazione Pescheria che segue l'organizzazione di Pesaro 2024 perché tutta la questione che riguarda i volontari sarà affidata in parte al Comune di Pesaro e in parte al Centro Servizi per il Volontariato con il progetto VolontariX noi avremo questa piattaforma attraverso la quale metteremo insieme gli eventi, quindi le richieste di volontari e i tanti volontari che ci auguriamo arrivino non solo da Pesaro ma da tutta Italia e anche dall'estero che decideranno di dare la loro disponibilità a partecipare come volontari agli eventi questo era l'accordo che abbiamo iniziato con Pesaro 2024 e oltre questo avremo tre contenitori molto importanti che presenteremo proprio oggi in questa seconda tappa di Visibilia che sono i tre contenitori di cui si occuperà direttamente il Centro Servizi per il Volontariato proprio grazie al percorso fatto in questi mesi con Visibilia quindi ci saranno tre progetti importanti che sono circolazioni, slow tourism e uno che a me piace tantissimo che è 50 per 50 i 50 comuni nelle 50 settimane di 2024 ogni città, ogni comune della nostra provincia vedrà degli eventi in collaborazione con le realtà di volontariato e i comuni stessi che oggi ad esempio come per la Capità della Cultura 2024 ci vuole una organizzazione molto capillare e intelligente ma insieme tutto viene mosso dal cuore, dalla passione ed è anche proprio nella natura del volontariato oggi che non è più improvvisato ma è strutturato quello di essere preparati e competenti ma nello stesso tempo motivati e per essere motivati ci vuole il cuore quindi diciamo sia l'evento che la Capità della Cultura sono sulla stessa linea quindi la passione con l'impegno e l'organizzazione quindi questa è la grande sfida e noi ci siamo e ci fa piacere mettere anche come protagonisti il volontariato perché ci tengo a dire che nel nostro territorio c'è un movimento in cui il terzo settore, il volontariato, sono protagonisti quindi l'amministrazione comunale li coinvolge in coprogettazioni e coprogrammazioni dei servizi perché riteniamo che sia un valore quello del coinvolgimento diretto del mondo del volontariato questa combistione con Pesaro 2024 Capità della Cultura è una cosa che ci fa estremamente piacere per due motivi primo perché noi come Fondazione Cassa di Risparmio partecipiamo attivamente a questo grande e significativo evento per la nostra città di Pesaro ma come la nostra città di Pesaro in maniera intelligente e lungimirante ha saputo pensare per tutto il territorio provinciale e come Fondazione siamo intervenuti sia per iniziative sparse in tutta la provincia sia adesso ci concentreremo, ci concentriamo per il 2024 su proprio la città di Pesaro e d'altra parte ci interessa molto questo tema della cultura perché come è scritto nel manifesto che magari poi potete far vedere volontariato è, voce è il verbo essere, cultura e questo credo che sia un messaggio estremamente importante perché la cultura ha una dimensione ovviamente specialistica colta in cui abbiamo l'atto dell'artista, l'atto del pensatore, l'atto del poeta ma tutto questo ha senso nella misura in cui è il punto di solidificazione di una vita di una vita che è la vita di un popolo la vita di un popolo che in qualche modo è tale se è capace di solidarietà e concludiamo con una notizia di sport medaglia d'oro ai campionati assoluti italiani di pugilato per la giovane pesarese Valentina Marra appartenente al gruppo sportivo dei Carabinieri dopo i titoli italiani ed europei nelle categorie giovanili la 18enne pesarese allenata dal maestro Antonio Raspugli ha vinto a Chianciano Terme anche il titolo italiano d'elite nella categoria di peso di 63 kg si conclude qui il nostro telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti di questa sera e non solo sulla nostra emittente subito dopo il TG il nostro speciale dedicato all'inaugurazione del supermercato il Sicontè Superstore a Pesero in via del Novecento che vedete in questa foto dall'alto supermercato in zona Celletta Santa Veneranda all'angolo tra via del Novecento e via Bonini vi mostreremo tutto questa sera alle 20 martedì sera è poi la serata di Amministrando il nostro formato dedicato all'avvicinamento verso le elezioni 2024 puntata al femminile con ospiti l'assessora del Comune di Pesero Francesca Franquellucci e la consigliera comunale d'opposizione Giulia Marchioni appuntamento come ogni martedì alle 21.20 e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che nell'occasione sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi altra diretta di altro genere è quella del giovedì sera con Insieme a Canestro il nostro focus sulla Carpegna prosciutto basket Pesero condotto da Elisabetta Ferri che giovedì avrà come ospiti l'ala della VL Riccardo Disconti e il giornalista opinionista nonché ex curatore di Insieme a Canestro Marco Cadetto l'appuntamento alle 21.20 in diretta con possibilità di commenti anche di voi tifosi telespettatori al numero whatsapp dedicato 370-366-7210 e con questi appuntamenti si conclude questa edizione di Rossini News e vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi e vi ringrazio per averci seguito